salve a tutti benvenuti a votare questa serie su nio chiamata yokai ok devo andare a fare una confessione ho farmato ho farmato ho farmato ho farmato tanto ve lo faccio vedere quanto ho farmato voglio essere sincero oh so scarso dovete dovete un attimo avere pietà di me vi faccio vedere quanto ho farmato dovete avere pietà di me livellabilità a livello 41 ecco sono certo livello 41 la seconda missione capisco possa essere un po vergognoso teoricamente ma io so scarso e quindi ho bisogno di questi aiuti abbia abbiate pazienza sono scarso quindi formato un po fatto cercare di far salire intanto il chi che è la stamina perché ogni volta ne consumo tantissimo ogni volta ho sempre a secco e qualcosina con magia diciamo nell'attacco del falcione questo è quello fondamentalmente ho fatto e poi in qualche punto ha energia per aumentare il peso massimo nell'equipaggiamento cosa dovrò anche comunque continuare a fare ho farmato anche le tazze la o cioco cioro bimbo come si chiamano quelle tazze la che che quelle tazze diciamo che che fanno evocare i friends questi tazze la o cioco ecco ciocco ne ho 44 perché in frattempo ammazzavo anche ad esempio aiuto dei friends ammazzavo anche i tizi delle tombe maledette e assassinate la Comunque così si chiamano Questo è quello Ora Ecco questi Sempre con l'aiuto dei friends Ora Senta Lei Ecco Tu sei giusto Perfetto Allora Fatemi capire Anche qua per il boss Voglio il friend Allora 17 No Allora 40 Livello 40 Due tazze Due tazze richieste Potrebbe andare bene 42 tazze 45 tazze Questa addirittura Allora però forse 5 tazze per l'armamento Perché non capivo Perché questo 2 Questo 5 sarà Megacorazza Fammi Fammi pigliare il megacorazzato Ok Buro che Buro che russo Ok Allora friend Proviamo 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 Ho farmato Un po' Eeeh 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 Ma ogni volta Me li prendo Un faccia Sti cosi No Dai Di nuovo Eeeh Nisco Qua mi fanno Ilimitare i danni Qua mi fanno Ilimitare i danni Ilimitare i danni Eeeh 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 Che trova Cato Eeeh 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 Pura ti Ok Pala Eeeh 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 Ehi 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 Ok Via Vino Ok Ehi 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 Ma boveni così così Ancora Non hai più Ehi Merda Curati Ehi Che caso Ok 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 Calma Calma Forse ce la faccio stavolta Ehi Ehi Ma ne hai più Usate Ehi No 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 Curati 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 Ok No Scusa Scusa Ehi 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 Ustie Avo Fini Oh No Stavolta ci sono andato vicino Stavolta ci sono andato vicino Stavolta ci sono andato vicino Ehi Ho fatto un botto di elitir Di robe Stavolta ci sono andato vicino Ok Ci riprovo Dai Ci riprovo Senti Vabbè Ok Cosa apre Bomba esplosiva Ok Però io Una cosa la farei Equipaggiamento Io Frutto Della pianta lanterna Io Ho comprato Farei varie cose L'amuleto Acqua Ma Infuso Allora Se Mi Permio L'arma D'acqua Potrei Insomma Non Potrebbero essere male Vediamo un po 21 11 Non ci faccio molto Con questi friends Però Non ne ho altri friends A disposizione No Vabbè Dazzis Questo è Allora Andiamo Ne quello Livello 21 Mirror Symmetry Ah Symmetry Ah Ok Non leggevo Mi sembrava Una D Invece Era una D Ok A Oh Oh Ah Eh Eh è stato simmetricato che cacchio vai e la peppa che cacchio Vabbè Ah ok Va bene Ok Ok fondamentalmente Che devo fare Torniamo su Allora Tu stai giù Mirror symmetry Non mi ha fatto pazzi Però questo è livello 11 C'è nessun altro Vabbè senti mirror Quanto duri duri Scelgo te Meglio non ne ho Ok Ok Che cacchio Lola Quello E la peppa Aspetta Ehi Ehi Posta Tivor Catrota Ok Eh Ehi 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 Curati Porca Ehi Ehi Levati Che cacchio Che cacchio Che cacchio Che cacchio Ma porca Ma che cacchio Che cacchio Che cacchio Via Vai Oh 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 Levati Curati Curati Eh Levati Di qua Levati di qua Levati di qua Bomba Eh Cacchio Che cacchio Eh No 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 Levati Levati Curati 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 Levo Porca miseria Quanti ne ho qua Vai Quindi Ok Porca miseria Vai No 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 Curati Perché Non ti curi Arriverà Allora Arriverà Un momento Che sarò Talmente pompato Non beneficente Farmo Tal punto Che 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 Da Super Over Mega Non lo so 24 19 No Dove sei Cosa Dai Vieni giù Che devi fare Bravo Fatti 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 Arrosto Ma Cosa volete Uno è morto Vabbè senti Faccio un buon friend C'è No 16 20 E Devo Va Avanti Marman Ok Ci risiamo Dai Dai Oh Ok Quello Lo sta Prendendo Ecco Quello Quello Dura niente Non dura Non dura Niente No Eh Ciao Vabbè Ora Ora Ok 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 Ehi No Porca Vabbè 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 Ok Vabbè Vabbè vai 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 via vaiha vai via vai via, vai via vai via ok cioè c'è ok 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 oi oi mia dai curati ok ok ah oi no ah curati no sbagliato no sbagliato 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 no dai levati curati si levati vai vai via perchè si è bloccato eh sono ancora vivo curati ok ok no 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 curati ma non so più dove stare no 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 levati non ho più cure non ho più cure non ho più cure non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non so che devo fare non so che devo fare Ultimo tentativo Ultimo tentativo Ultimo tentativo Ok Ultimo tentativo Per questa puntata Ok Toh Va bene Prendo te Fammi un favore Grandissimo Non t'attardare coi minion Li prego Non t'attardare coi minion Ti prego Ok Posta Levati Levati Vieni Vieni qua Avanti Vediamo che ti devi scappare Eeeh Vieni Ok 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 No 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 Bene Bravissimo No No Bene 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 Up Red Bene Ma Via Vale Bist Per no 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 curati, curati, perché non ti curi? oh questo sta morrendo sono persa la vita se ora che si fa? Eh, mo' che si fa? Com'è che faccio così tanto Un po' di poco danno? Eh? Uh! Eh! Eh, ok! No, 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 levati, levati, levati! Dove che devo fare? Che devo fare? No, ok, un attimo Ok No, no Bomba No Oh Oh Ci manca poco Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non ci credo Non ci credo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Evviva Signori Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok Che? Che? Don't know it Ok Che cosa? Ok Ok Va bene Certo partirci con un falcione alla gola Non è il migliore inizio per un dialogo Però va bene Ok 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 Si Grazie Certo Certo Esmita Non lo aspetto Quanto Segue Anche Creati Quanto Ah Quanto Se questo Diciamo Quanto Ma lasciala andare Tanto appena torna Io lo faccio quadro Non è che è un problema Comunque ce l'abbiamo fatta E direi che posso chiudere qua questa puntata Finalmente ci siamo levati Questo è il boss della seconda missione Voi pensate che diavolo di sofferenza Sarà andare avanti finito Non lo finiremo mai Questo gioco non lo finirò mai Allora Quella torna non era affatto un samurai Ma quindi che diamo l'era Beh sicuramente A giocare con le mozze Era sicuramente qualcuno che vorresti a tuo fianco Possiamo comunque dire Di aver soddisfatto la richiesta del maestro Dosan Ma nel caso di fermarci Dobbiamo accapararci A tre pietre dello spirito Dovremmo anche stare molto attenti Ho il presentimento che Troveranno altri guai in nostro cammino Conto su di te Iti E va bene Ok Va bene Sì Allora Nucleo d'anima E mera E chimera Eh sì Io ho fatto frammenti Rampi Che puoi tutta cosa di frammenti Non è che ci ho capito molto Allora Armonizza nucleo d'anima 35 Questo ho fatto 26 A posto di questo lo metto Sì A posto di questo E ci metto Questo Questo Vai Sì Ehm Vabbè Ehm Ok Vabbè Diciamo che va bene Missione giunta al dojo La via del guerriero Novizio Oh Allora Ho ricordato i seguenti titoli Non me ne fotte niente Ok Allora Questa l'abbiamo fatta Queste sono secondarie Non mi interessano Questa Prima Questa che c'è Gli era consigliato 20 24 In chi Già si parte Terza missione Già consiglio Livello 20 Ma che cacchio Allora Punto di partenza Capanna Capanna Che c'è la capanna Illustrazioni Di che cosa Non me ne fotte niente Ehm Deposito Allora Io Allora Posso Dovrei avere Le frecce A deposito Frecce Ehm Allungi ai preferiti No Ehm Come Posso portarmi Cassetta Agli oggetti Che vuol dire Ah no Va bene Deposito Aspetta Freccia Ok 211 frecce Ok Va bene Ehm Equipaggiamento Equipaggiamento E questo Si Questo Questo Posso Modifica capanna Visita No 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 Non Voglio Io prendo Sempre Soldi 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 Ma Che me ne faccio Dei soldi Allora Fabbro Forgia Aspetta Hai ceduto Testo Sulla Forgiatura Si 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 Ok Io forgiamo Aspetta Fammi forgiare Armi Armi Fammi forgiare La No Che katana Quale katana Il falcione Il mio falcione Quale il mio falcione Quale il mio falcione Scusa Aspetta 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 Scusa Scusate Un attimo Ecco Titoli Vabbè No io non Ok Tutto molto bello Ma io Non me ne frega niente Equipaggiamo Allora Facciamo una cosa Se cosa me le faccio A telecamere spente Noi ci vediamo La prossima puntata In cui Inizieremo Un'altra missione Alla prossima